Ciao e benvenuti in questo nuovo allenamento, assicuro di aver seguito il video del riscaldamento e pronto a partire! Iniziamo con step up su box, quindi appoggio il piede, da qua cerco di non far andare il ginocchio oltre la punta, spingo indietro il bacino e salgo facendo forza sulla gamba in appoggio, arrivo e scendo, controllato, appoggio, per salire non mi do la spinta ma spingo dal piede tramite la pianta del piede della gamba in appoggio sul box. Pronte a partire? Lento e controllato, tensione costante, let's go e salgo e giù, piano, uno e riparto, piano non mi do la spinta con il piede che va a terra, due, tre, lavora la gamba in appoggio sul box, quattro, lento e controllato, cinque e sei, sette e otto, ok, dovremmo sentire il gluteo on fire e cambio, e riparto, sette bene, let's go, uno e scendo piano, due e tre, quattro, cinque, sei, sette e otto, scendo e pausa. Per questo prossimo esercizio andremo a fare dei tricep dips, quando salgo su mi tengo su, tocco e tocco e torno giù, pronte a partire? Let's go! Scendo, gomiti stretti mi raccomando, torno su, torno su sediolina, tocco e tocco, uno e due, controllo bene l'addome, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dai dai che ci siamo e nove, l'ultimo, dieci e pausa. Grazie a tutti! prossimo esercizio partiamo da piedi larghezza spalle, andiamo a fare degli affondi incrociati dietro dove scendo, sento bene l'allungamento, incrocio bene e torno su e cambio, rimango bassa. pronta a partire? Ne facciamo dieci per lato e quindi let's go! Incrocio, scendo a lungo bene e cambio e cambio, rimango bassa, uno, focus glutei, due, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, portiamocene a casa altri due, nove, ultimo, dieci e pausa. a 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 4 5 cambio braccio 1 2 3 dai dai resisto 4 e 5 e rimango in plank subito shoulder taps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ok da qua moving plank avanti avanti dietro 1 2 stesso braccio 3 4 e 5 cambio braccio avanti 1 2 3 3 4 l'ultimo 5 chiudo pausa 1 2 3 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 7 7 9 10 11 12 12 12 5 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 15 Cambio posizione per far vedere diverse angolazioni ma la cosa non cambia e quindi appoggio, setto bene, vado indietro e let's go. E 1, scendo piano, sento il lavoro nel gluteo, 2, 3, il piede a terra si appoggia ma la spinta parte della gamba in appoggio, e 4, e 5, 6, 7, l'ultimo, e 8, ok, giù, e cambio, sciolgo, e cambio, dai che ci siamo, e 1, 2, 3, 3, 4, 5, mi concentro bene sul gluteo, e 6, 7, 8, giù, e pausa. Grazie a tutti. Pronto a partire? Focus upper and core, let's go, e 1, mi tengo su, tocco, tocco, e giù, e tocco, tocco 2, e 3, 3, 4, raccomando, gomiti stretti, non li apriamo lateralmente, 5, 6, 7, 8, e 10, 9, e 10, e pausa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. pronta a partire rimaniamo basse e let's go incrocio e giù 1 lente controllato tensione continua 2 e 3 il ginocchio avanti si apre leggermente lateralmente ma non sbandiera troppo 4 preserviamo la salute delle nostre ginocchia e 5 il lavoro dovremmo sentirlo sul gluteo 6 e 7 e 8 9 l'ultimo e 10 su pausa grazie per la visione tocca a loro e quindi parto dal plank e concentrazione let's go 5 con lo stesso braccio 1 2 3 4 e 5 cambio braccio giù 1 2 3 4 e 5 dal più difficile andato shoulder taps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 non perdo il plank 10 l'ultimi e avanti e 1 2 stesso braccio 3 4 5 cambio braccio 1 2 3 4 l'ultimo 5 e giù sciolgo pausa 2 3 5 6 8 9 8 9 9 9 10 2 1 1 1 2 2 2 put APP Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma già lo sentiamo bello efficace e quindi mi sento bene e let's go. Su, 1 e scendo, 2 e scendo, 3. Tutto il lavoro sulla gamba e l'appoggio sul box. 6, 4, 5, 6, 7, l'ultimo e 8. Pronta a cambiare, appoggio, switch, partiamo subito. E un respiro e let's go. E belle concentrate. Su, 1, 2, il busto è leggermente flessino avanti. 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo e 8. Scendo, scendo e pausa. Ciao. 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 ultimo giro portiamocelo a casa e let's go e giù, tocco, tocco, uno, due tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, l'ultimo, su, su e stop, pausa. Grazie a tutti. Ultimo giro portiamocelo a casa e dai su andiamo e incrocio dietro, rimango basse e cambio, uno e sento bene l'allungamento quando incrocio, due e tre, quattro e cambio e cinque, sei, sette, otto, dai che ci siamo, e nove, l'ultimo, die, ci, ok, e pausa. Ciao. 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 Libr część, ложtative. Jul�네,vt顧, sei, sei, sette, otto, nove, dieci e avanti dai che sono gli ultimi, uno, due, 3 4 e 5 switch 1 2 3 4 l'ultimo 5 chiudo braccia on fire stop allenamento completato si può vedere dal sudore ora sicura di seguire il video del cool down abbiamo anche la nostra coach che è appena arrivata siamo state brave e noi ci vediamo nel tuo prossimo allenamento ciao ciao